Modelli accattivanti e dalle mille funzionalità. Sembrava il regno dei telefonini, quest'oggi il comando dei carabinieri di San Benedetto, dove i militari hanno esposto la rifurtiva di due ladri acrobati che nella notte hanno svaliggiato il centro commerciale Porto Grande. 300 cellulari, 30 macchine fotografiche digitali, 5 telecamere e 4 navigatori satellitari e poi ancora voluminosi mazzi di ricariche telefoniche e televisive, batterie ed accessori vari per la telefonia. Questo il bottino record di due rumeni, Florian M. e Ovidio R., sorpresi dagli uomini della vigilanza e poi dai carabinieri mentre stavano portando via tutta la rifurtiva. I due ladri intorno alle ore 3, come degli acrobati, si sono arrampicati sulle grondaie del centro, giunti sul tetto hanno praticato un foro e si sono calati nel reparto informatico con le manichette del sistema antincendio. Una volta entrati hanno iniziato a far razzia di telefoni e fotocamere, stipandoli in quattro borsoni. Proprio mentre erano intenti a calare l'ultima valigia dalla fessura, i due sono stati notati dagli uomini della vigilanza della Global Service, che hanno dato l'allarme ai carabinieri. A quel punto i due romeni sono fuggiti sul tetto, sgattaiolando all'interno delle condutture di aereazione. La caccia al ladro è durata quasi un'ora e una volta bloccati, i due sono stati immediatamente condotti presso il carcere di Marino del Tronto. Ora si indaga per capire se i romeni appartengono ad una banda criminale o se siano collegati con gli altri furti perpetrati ai danni del Porto Grande nei mesi scorsi. Certo è che stanotte i due hanno provato a mettere a segno un colpo grosso, rubando materiale di ultimissima generazione e schede prepagate per una cifra record che si aggira intorno ai 150.000 euro.